ciao ragazzi benvenuto in questo nuovo video guardate in che bosco in che atmosfera mi trovo siamo finalmente circa a fine settembre e il bosco sta dando veramente spettacolo distese assurdo di amanite muscarie come queste aperte grandi fino a 40 centimetri e sto trovando il disastro di porcini guardate che esemplari sanissimi bellissimi sodi grazie a tutti grazie a tutti ecco gli altri ragazzi uno due e tre splendidi guardate che funghi guardate che gambo tozzo che c'è guardate i miei bollettini che ho lasciato crescere l'altra settimana tutto per sotto dentro dentro della terra un bel fungotto bello quello lì vediamo non male questa qua questo è un piccolino che nasce lì questo bolletto ragazzi è nato completamente sotto terra scavo bene dentro che deve essere cerchiamo ora come piegato bello una forma un po' strana un bel funghetto sì 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 guardate lì sopra suo fratellino quello è bello guardatela che ci osserva un po' strana è un po' strana che ci osserva 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 ok siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo fatto una grande ricerca anche oggi con questo ultimo bel esemplare fresco di edulis vi saluto vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale condividere i miei video mi raccomando fate delle buone passeggiate nel bosco noi vi salutiamo guardate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti